ci sono tanti volti noti sono chiusi o aperti giochi noi di certo non sappiamo la sibilla interroghiamo del fiocuma con tampoco e proviamo con quella in loco di roberto assai gioviale cosa c'è da commentare ne ho già fatti fuori un paio un tipo astuto sotto al saio or di massimo il giudizio che racconti su sto tizio a parole mette il turbo ma si scorda il porto furbo ed elvira con la destra è stata proprio pronta e destra sulla donna assai arremmante ma di certo un po cangiante di raffaele che mi dici non lo metti tra i suoi amici troppo a lungo sulla sponda ora prova a prender l'onda e dei tanti nelle liste il futuro ride o è triste del diman non dico altro già il passato e al quanto scaltro di gran parte nelle schiere sono ben note clientele ed adesso sai che dico io mi taccio caro amico solo il voto in bene o in male darà il consiglio comunale